Salve popolo degli truppi, eccolo qua, è un 8 dicemario, poche 2.024 amici miei Ovviamente all'interno ci sarà una sola previsione, come il nostro solito Poi per quanto riguarda le estazioni dell'8, ne saranno sempre 4 che sono state prorogate Un attimino Solo un secondino, amici miei Un attimo Il fatto che sarebbe stata prorogata, non avevo dubbi amici miei Quindi, per chi vuole, tranquillamente L'anotte di gennaio, 2024 Poggers Ok? E credo che sarà un altro successo, perché quando ci si mette una sola previsione Va bene, da Leone è tutto, ciao 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 Grazie a tutti